Si può condurre una ricerca inserendo un termine. Vengono mostrati altri termini similari per guidare la ricerca. Vengono mostrate le aziende corrispondenti la chiave di ricerca. L'ordinamento delle aziende è casuale e cambia regolarmente. Per ogni azienda vengono presentati i dati identificativi principali. È anche possibile contattarla via WhatsApp. L'operatore straniero può contattare subito l'azienda compilando un modulo. Ogni azienda ha uno showroom, un sofisticato che ha tutte le informazioni, i prodotti, i documenti e le notizie relative ad essa. L'operatore può chiedere informazioni anche su un singolo prodotto. Si può ingotto, a tutto schermo, per apprezzare i minimi dettagli. In questa area dello showroom possono apparire alcuni prodotti automaticamente provenienti dalla eventuale piattaforma aziendale di commercio elettronico B2B fornita da Italian Moda. Informazioni sull'azienda e su come contattarla. Le miniature per passare all'eventuale piattaforma e commercio B2B dell'azienda e dal sito aziendale. Le domande e risposte più frequenti sull'offerta dell'azienda. Le notizie commerciali pubblicate dall'azienda. Le aziende vengono mostrate con una selezione di immagini, rappresentativa dei loro prodotti. Un altro esempio di showroom. In questa sezione dello showroom vengono presentati gli eventuali articoli posti in vendita nel Mall B2B Italian Moda. Nello showroom è possibile riaggregare automaticamente i post aziendali su social networks come Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest e LinkedIn. E' possibile visualizzare sulla mappa le aziende appartenenti a questa categoria. Cliccando un'azienda vengono mostrati i suoi dati e come contattarla subito. Anziché vedere le aziende, si possono visualizzare i loro prodotti, per una selezione visiva. In questa sezione vengono visualizzate le piattaforme di commercio elettronico B2B delle aziende. Qui vengono mostrati gli articoli messi in vendita dalle aziende nel Mall B2B Italian Moda. Il Mall è il centro commerciale in grosso online multimarca. In questa sezione sono presenti i lotti di stock a prezzo scontato venduti direttamente dalle aziende. Il buyer straniero può chiedere informazioni all'azienda sul singolo lotto. Grazie. 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 Grazie.